Ciao amici! Benvenuti nel mondo dei cartoni Anna e Barbera! Jackson! E' un'altra cosa che ci sono! E' un'altra cosa che ci sono! Scooby Dooby Doo! Questo è il Maggela Gorilla Show! Prima che inizi lo spettacolo vi voglio ricordare che potete trovare altre nuove e divertenti avventure dei vostri personaggi preferiti in vendita delle migliori videoteche a 19.900 lire Arrivederci, a presto! Ilma!